Buongiorno a tutti, grazie per questo invito, auguri anche da parte mia per questo centenario, ringrazio Francesco, ringrazio Massimo, ringrazio tutti i relatori, ringrazio il dottor Curcio per il lavoro che sta facendo e ringrazio Teresa Bellanova per le parole che ha usato nei miei confronti e sa che le ricambio sempre con grande affetto. Poi tra l'altro il suo percorso prima sviluppo economico, poi agricoltura, chissà che non apra un scenario futuro al Ministero delle Infrastrutture e delle Movità Sostenibili. Sarò breve, però cercherò di dire alcune cose nel modo più chiaro possibile, sottoscrivendo il 90%, sarò breve anche perché appunto sottoscrivendo il 90% dell'intervento della Vice Ministra Bellanova aggiungo poco. Parto però da una cosa su cui non sono convinto che sia, e sono convinto che bisogna fare un minimo di attenzione. Io sono stufo di vivere in un Paese che ogni volta che ha un'emergenza decreta lo stato d'emergenza, nomina un commissario e poi chi si è visto si è visto. Allora se questo è lo scopo non mi interessa, perché o siamo in grado di costruire una struttura che affronti sì il tema dell'emergenza, ma con un'ottica strutturale di risoluzione del problema, e questo non significa mettere un commissario con 30 persone che preleiamo dalle altre amministrazioni per un anno lì. Allora o facciamo una struttura che sia veramente in grado di coordinare le competenze che sono frammentate in tanti livelli amministrativi e in tanti di casteri. O dotiamo quella struttura di competenze tecniche, di risorse, di uomini e donne che lavorano costantemente e non deturpiamo le altre amministrazioni centrali, oppure il commissariamento serve a chi fa politica, un po' come è successo in questi giorni, guardate io oggi voglio dire le cose come le penso, perché credo che o le diciamo e le affrontiamo oppure saremo qua fra dieci anni a dirci le stesse cose di oggi. Andare in tv e dire facciamo lo stato d'emergenza per settimane, ecco non è che la decretazione dello stato d'emergenza risolve il problema, così come non la risolve in senso assoluto la nomina di un commissario. La risolve la capacità che abbiamo di mettere a sistema risorse, progetti e visione in modo coordinato, superando le diversità dei vari livelli amministrativi. Ettore faceva l'esempio del Ponte Morandi, ma noi possiamo ambire a vivere in un paese in cui non si debbano fare cose straordinarie per l'ordinarietà delle realizzazioni che dobbiamo portare avanti? Cioè possiamo avere questa ambizione o dobbiamo sempre pensare a norme speciali, a commissari, a decretazioni d'urgenza? Cioè riusciamo a pensare a questo paese come a un paese normale in cui le opere si fanno perché è giusto farle e si fanno con una prioritizzazione degli interventi? O dobbiamo sempre guardare soltanto a modelli straordinari di gestione della complessità e dobbiamo anche noi che facciamo politica evitare ridurre la complessità a un messaggio semplice perché la risposta a problemi complessi è complessa, non è mai semplice e se abbiamo una risposta semplice a un problema complesso vuol dire che la risposta è sbagliata. Allora o abbiamo questa capacità anche nostra di programmazione, di raccontare le cose come stanno e nel raccontare le cose come stanno dico qui che per me è stato un grande problema l'attuazione della misura ereditata da Teresa per la quale la ringrazio degli 880 milioni sull'agrosistema in Riguo perché ho scoperto aree del territorio prive di interventi programmati e con progetti cantirabili nell'immediato. Il piano nazionale di ripresa e resilienza è bellissimo, ci dà un sacco di soldi, ci dice però che da giugno 2026 dobbiamo rendi contare e io rendi conto qualcosa che ho già fatto, non qualcosa che dovrò fare. Se per realizzare un'opera ci metto tre anni o sono pronto con il progetto esecutivo le autorizzazioni oggi o è inutile nemmeno che pensi a quell'opera con le risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza. E allora il bando, il decreto prima, il bando poi e l'analisi oggi che stiamo facendo puntuale su tutti i progetti che sono arrivati che non riguardano i 360 milioni delle opere già finanziate ma i 520 milioni di opere nuove, ci sta mostrando un quadro molto differenziato nelle zone del paese e non è per forza una differenza nord-sud, anzi non è una differenza nord-sud. Questo elemento è centrale perché se non abbiamo la capacità di progettare, lo dico da progettista di opere, ho fatto una sessantina di opere pubbliche nella mia vita, se non abbiamo una capacità progettuale non abbiamo neanche la capacità di disegnare il paese che vogliamo, se non riusciamo a supportare le attività di progettazione oggi di Ambi che ha un progetto meraviglioso perché la questione di Laghetti lo dico da quanto? Da febbraio dell'anno scorso e lo dico più da ingegnere forse che da ministro delle politiche agricole, è un progetto stupendo ma noi dobbiamo supportare la capacità di execution di quel progetto, dobbiamo rafforzare le strutture di governance e di progettazione di questo paese a tutti a livelli amministrativi, abbiamo comuni che gestiscono la risorsa idrica e sono comuni da pochi migliaia di abitanti che hanno un unico dirigente che fa tutti i servizi del comune, ma in questo modo dove vogliamo portare il paese se non risolviamo questo problema? E dobbiamo farlo dando una struttura ordinaria di norme, non cavalcando sempre solo la straordinarietà e non è neanche vero che dobbiamo sempre raccontarci peggio di come siamo, perché se abbiamo investito un miliardo e duecento quaranta milioni dal 2017 al 2022 è perché avevamo una capacità di prevedere ciò che sarebbe successo, forse figlia delle crisi del 2007, del 2012 e del 2017, però l'abbiamo fatto, abbiamo messo a disposizione alcuni strumenti perché da un lato c'è la necessità di aumentare la captazione e la gestione della risorsa idrica, dall'altra parte c'è la necessità di usare meno risorsa possibile per le attività irrigue agricole. Io penso che nella progettualità della meccanizzazione, i 500 milioni di cui 100 sono per i frantoi e le aree, i 400 sono invece per la meccanizzazione anche su spinta della col diretti del Presidente Brandini, stiamo ragionando di veicolare in modo puntuale una parte di quelle risorse, se le riterremo compatibili con il quadro normativo del piano, proprio per interventi di miglioramento della capacità di irrigare di ciascuna azienda agricola. Ma questo si accompagna a tutta la misura transizione 4.0 perché è un sistema di agricoltura di precisione che consente di risparmiare fino al 70% dell'acqua nell'attività di irrigazione, oggi accompagnato da un credito di imposta che consente di fare un investimento parzialmente a carico dello Stato da parte delle imprese e quindi da un lato la necessità di risparmiare acqua e dall'altra parte il progetto dei laghetti per aumentare la nostra capacità di captazione. Io credo che questa sia la sfida delle sfide perché se non c'è acqua non c'è attività agricola, noi possiamo ragionare di tante cose, di come implementare le produzioni, delle difficoltà delle diverse filiere, delle difficoltà attuali legate all'estrema aumento dei costi di produzione, ma se non ci sono due elementi oggi in campo, i giovani da un lato, la citava anche Teresa, e l'acqua dall'altro, il campo non produce niente da solo. Noi dobbiamo assolutamente renderci conto che se non vinciamo questa sfida perdiamo un settore produttivo che a mio avviso è il cuore pulsante dell'economia di questo Paese. Avrete certamente il Ministero, non me, perché io sono uno protempore, il Ministero delle politiche agricole al vostro fianco in questa battaglia, sono certo che avremo un grande coordinamento e che tutto il Governo saprà fare la sua parte, è necessario accelerare sui provvedimenti. Io penso che sia necessario coordinare le competenze che sono troppo frazionate, che passi attraverso una struttura di coordinamento permanente a Palazzo Chigi o attraverso una struttura commissariale seria, questo lo ritengo indifferente. L'importante è che non ci si trovi nelle condizioni in cui un comune ha l'acqua, l'altro no e chi ce l'ha non gli accede, non ci si trovi nelle condizioni per cui una regione ha l'acqua, l'altra no e non si consenta a chi non ha l'acqua di accedervi. L'importante è che non ci sia tra il Ministero delle politiche agricole, il Ministero dell'infrastruttura e mobilità sostenibili un rimpallo, questo lo devi fare tu, questo lo devo fare io, questo è il tema vero che dobbiamo risolvere, altrimenti quella sfida la perdiamo. Grazie. Grazie. Grazie.